Domani esce questo film che è la trasposizione italiana di un film che ha avuto molto successo in Germania e non soltanto che era lui è tornato e qui è diventato sono tornato è arrivato con noi il regista Luca Miniero, buongiorno buongiorno a voi e uno dei protagonisti, Frank Matano buongiorno buongiorno Frank, mi distrago un attimo e mi torno in tutto fisicato ma non me la dai a bere? no, beh ma era già così dici? no, no, io l'ho venuto più grosso ma forse la camicia eh, la camicia però no, mangio un po' mangio ma come stai intanto per cominciare? sono molto contento bene, bene, bene che ruolo hai nel film tu? purtroppo non c'è con noi il protagonista principale Massimo Popolizio non c'è Mussolini non c'è Mussolini esatto, no, io sono un regista documentarista sfigato che scopre Mussolini e pensa che tipo, pensa che è un attore geniale che imita perfettamente Mussolini e decide di portarlo in giro per l'Italia perché per chi non l'avesse visto quello tedesco insomma è ambientato ai giorni nostri esatto, Mussolini torna ai giorni nostri io lo porto in giro per l'Italia non mi parlo più Luca, ma in quello originale sì per quale motivo Hitler tornava? come faceva ad essere ancora vivo? tornava e usciva dal bunker da noi invece lui torna cioè è rimasto 70 anni nel bunker e deve venire fuori però torna giovane cioè non c'è magico non viene spiegata questa cosa non si capisce, sembra la fine della guerra sì, sì, esatto, esatto comunque noi abbiamo, lo porto in giro per l'Italia intervistiamo anche non attori cioè il documentario è tecnicamente vero è un meta documentario intervistiamo hai ambientato ai giorni nostri sì, 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 sì e Mussolini parla con gli italiani riesce a tornare da quelli che avete intervistato in molti casi erano persone ignare ignare perché parlavano a Mussolini come se fosse veramente Mussolini poi quella era la cosa strana e come gli parlavano? eh, con molti con grande affetto mi manchi una signora gli ha chiesto il numero di telefono a Massimo però gli piaceva Mussolini forse gli piaceva Massimo dici, non si capisce ma come le avete cercate queste persone? no, assolutamente noi abbiamo cercato siamo andati per strada parla di Infusa e poi in montaggio abbiamo scelto strade di dove? Firenze, Milano, Napoli, Roma siamo stati nella pianura latina ma lui era vestito da Gerarca sì, non esce fuori stivaloni e tutto la recitazione di Massimo era Mussolini dunque qualcuno chiaramente ha avuto una reazione anche negativa è vero forse la più sana ma molti altri insomma si rivolgono a lui come un padre sì beh è un film divertente fondamentalmente molto molto dissacrante credo anche sì veramente devo dire che anche le prime reazioni che abbiamo avuto mostrano che sia un film veramente cosa dicono quelli di destra? secondo te? magari non hai il film è talmente un film che comunque racconta qualcosa di diciamo impossibile che accada perché è un personaggio del passato certo che più che giudicare Mussolini giudica un po' gli italiani cioè quantomeno mostra come sono gli italiani di destra e di sinistra quindi ognuno ci si riconosce quando si riconosce male pensa che è un altro che così quando si riconosce bene piace comunque un po' a tutti e il vostro Mussolini cosa dice dell'Italia che incontra? è molto deluso è deluso è deluso è deluso è deluso del film è infatti immagino sì 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 i social il computer insomma dopo 80 anni torna e ritrova un paese come lo aveva lasciato con qualche differenza un sistema di media più sviluppato che lo prende pure un po' in ostaggio in quello tedesco l'Hitler che ritorna piano piano ricomincia a fare un po' di proselitismo questo no o anche lui? il film è di percorrere la trama del film tedesco tranne che nel finale nell'ultima parte del film cambia completamente rispetto a quello tedesco e però dal punto di vista emotivo ovviamente del personaggio il nostro ritorno quando si fa un remake secondo me la cosa principale è che il remake abbia un senso farlo e qui praticamente in qualche modo del bene o nel mai l'abbiamo inventato noi praticamente questo gerarca tu hai già una buona esperienza di remake perché avevi fatto anche Benvenuti al Sud sì esatto che era tra virgolette il remake di un film francese che prendeva in giro i belgi può essere? insomma quelli della Francia del nord della Francia del nord confine col belgio sicuramente però appunto anche lì il cavolgimento è l'opposto lì era il nord ad essere cattivo era il nord ad essere pauroso era il sud però il nostro è stato un film più politico grazie anche a Massimo Gaudioso che è uno dei sceneggiatori di quel film lo abbiamo cambiato sostanzialmente e come hai scelto Frank? cioè come mai questa scelta di questo perché sapevi che non sta recitando sapevo chi era Frank sapevo chi era Frank ma ci piacera che Mussolini incontrasse il personaggio più contemporaneo ok per calarlo nel presente quindi tu nel film fai te stesso no 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 non proprio non proprio però un po' stesso fai quasi lo youtuber diciamo diciamo sono più sfigato di un youtube più sfigato ancora scusa più sfigato di se stesso a questi suoi giudizi nazionali esatto esatto quello volevo dire in realtà sì sì no però è stato divertente cioè pure un durante il film prendo una piega pure drammatica fosse stato più credibile purtroppo non lo è avresti potuto prendere Bisio perché Pelato era Pelato la storia d'amore diciamo continuava purtroppo non ci credeva nessuno no la storia d'amore a tre esattamente Bisio faceva gli istanti di Massimo Popolizio faceva gli istanti le scene più pericolose stiamo parlando di questo film che esce appunto domani che si chiama siamo si chiama sono tornato con appunto la storia di Mussolini raccontata da un punto di vista non come dire etico e sociale va più dissacratorio insomma è un Mussolini più privato e meno politico mi pare di capire qualcuno se l'è un po' presa per questa perché dice poteva essere una buona occasione per ribadire un concetto assolutamente però non era il nostro intento ma quello di invece di vedere come gli italiani oggi reagirebbero al ritorno di un dittatore certo hai dovuto studiare Frank sì 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 tu non facevi non fai la parte di Mussolini però comunque magari il personaggio lo conosci un po' da lontano sì 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 ho dovuto studiare ho letto delle cose ma soprattutto ho trovato sto podcast di questo americano pazzo non so perché che è esperto di Mussolini e beh è interessante di tre ore perché noi purtroppo in Italia siamo un po' avvelenati dalla polemica no? sì sì da sempre avvelenati da sempre no? quindi è interessante è un po' come quando vedi History Channel magari a volte lo giudichiamo con sofficienza il documentario americano però a volte un occhio più lontano è lontano ma distinguere meglio le cose sì 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 e niente mi sono informato poi devo dire che il popolizio quando abbiamo fatto il primo giorno di lettura copione vederlo recitare da Mussolini mi ha impressionato tanto complessi di inferiorità? cioè ci sono stati siamo stati pure in bagno assieme quindi figure no 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 io vedo che Frank si sta sforzando di non fare tanto il simpatico che c'è è come se tipo Maradona però tocca la pallone perché perché ti vuoi dare una credibilità no no è quello è che il tema è delegato sì 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 fate domande difficili sì sì che esperienza avevi fatto al cinema prima? avevo fatto due film con la religia di Ruffini Fuga di cervelli è tutto molto bello due teen movie esatto e invece è quello dove facevi il prof che giocava a basket ma che bella sorpresa con Bissio quello mi è piaciuto e poi questo qua è il quarto ed è una carriera che ti piacerebbe proseguire? ci provo vediamo che dice la gente com'è come attore? qual è il suo pregio principale? ma anche il difetto? no io tutti potrebbero come posso dire che non è bravo come attore qua però devo dire la verità perché lui è riuscito ascoltando eccetera a rappresentare veramente il cambiamento degli italiani di fronte a questa figura e non era facile è difficile lavorare come lavorare con Ted perché quello è un personaggio di invenzione il nostro Mussolini quindi lavorare con uno zombie uno che è tornato ed essere credibile quando dici lavorare con Ted intendi il parere un personaggio un pupazzo con il gabibbo insomma lavorare con qualcuno che non esiste e devo dire in questo senso la sua credibilità è enorme gli hai mai dovuto dire no troppo meno è una cosa che nel cinema ma forse è più a massimo l'ho detto più a massimo è un po' meno ma è vero che a un certo punto massimo cioè quello che faceva Popolizio che fa Popolizio era talmente nella parte che avete dovuto un po' tenerlo a bada ma è ovvio che sono quegli stivali lì che ti fanno venire voglia di comandare secondo me è un massimo di carattere voglia di dire un bel piglio però assolutamente diciamo è una cosa essere autoritario è una cosa essere Mussolini eh certo ma andando a ripescare nel suo nell'archivio che lo riguarda al di là diciamo Mussolini quello vero al di là diciamo di tutti i giudizi storici le leggi razziali e quant'altro per il quale averci trascinati in una guerra assolutamente insensata ci sono un sacco di episodi che fanno ridere comunque perché il personaggio comunque era un come dire un personaggio che sarebbe attuale anche adesso nel senso che aveva già capito tantissimo l'importanza della comunicazione e chiaramente inserite in un contesto come in Italia degli anni 20 anni 30 in qualche caso può diventare anche ridicolo però cioè tra lui e Putin non c'è nessuna differenza nel modo di proporsi non solo tra lui e Putin nel film questo racconta il populismo che ha inventato lui devo dire l'eredità che abbiamo in qualche modo anche nei nostri politici che insomma spesso promettono e non sempre mantengono comunque attenzione radioascoltatori e poi il primo famoso con i cappelli a zero perché non si usavano non si usava vero prima di bisio esibisce tranquillamente prima di bisio no attenzione lo prendono per un comedian cioè lo prendono per un film sì cioè questa è la cosa sto vedendo il film di show cioè lui lo prendono per un comico per un provocatore una cosa del genere e lui si lascia prendere così capisce che solo attraverso i media oggi può arrivare praticamente a conquistare il potere però non si rende conto e questa è la novità anche rispetto al film tedesco non vi spoilerò tutto che sono anche i media che lo usano ah ok beh certo diventa un personaggio ideale da avere in un talk tu immagini di averne uno vero da portarti in un programma Vespas ammazza pur di poterlo ospitare o chiunque altro insomma come va con la televisione Frank? bene 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 io rifarò Italia's Got Talent quando è? iniziamo quest'estate e niente questo più o meno quest'estate registrate e poi andrà in onda è sempre lo stesso il cast? questo non te lo so dire ma come non lo sai? secondo me sì ma non lo so non lo so tu ci sei io pare di sì ancora non mi hanno confermato però sì ci sono tutte le buone intenzioni e invece la Comedian 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 se forse facciamo la seconda stagione sì sì va bene e questo allora bene bene sfuggete no no sfuggete sfuggete la cosa è quella che vi ho detto prima ho fatto la si vuole dare un toro un po' più figo e ti e tira un po' indietro la gamba ho paura di dire cazzate no 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 non ci cazzo sai come allo stadio quelli con gli striscioni quelli a due stecche ho paura di dire cazzate ce l'hai lì proprio ma dimmi la cosa con quel bel accento napoletano sei almeno tifoso del Napoli sì sì sono molto cioè molto tifoso parliamo di cose importanti come lo vedi questo campionato ci stanno buone chance di vincere ci stanno buone chance vedi che subito si è scusato sì diventa subito lui che è molto molto tifoso che squadra ti fai è sempre del Napoli lui ne parla moltissimo io ci sono un po' malato quindi però insomma ci sono buone chance ma vivi ancora a Napoli o stai io? no vivo peraltro a Firenze ah vedi neanche a dire a Roma tra anche a Roma tra Roma e Firenze proprio come i napoletani i migranti sto sempre a guardare i verti del Napoli ok quindi delle sorti del Napoli abbiamo parlato se abbiamo un secondo uno le sorti del cinema italiano invece io personalmente penso che in effetti se guarda la domanda di Nicola la spiego agli ascoltatori è riferita al fatto che il 2017 è stato un anno abbastanza difficile per il nostro cinema anche se sono ripresi con il gennaio però Zalone droga il mercato nel senso che con Zalone chiaramente l'incasso globale sale ma se togli Zalone rimane la verità va detto che il gennaio è stato strepitoso la crisi della sala c'è perché tutti quanti guardiamo nelle televisioni giganti varie altre mezze film eccetera però penso che addirittura la quota del cinema italiano nel gennaio stava del 39% quindi non riguarda soltanto il cinema italiano un po' il cinema tutto quanto però come si diceva della radio che doveva scomparire quando usciva noi siamo qua vogliamo stare qua e goderell'ottima salute speriamo pure noi di andare al cinema speriamo che il destino sia comune domani allora in tutti i cinema sono tornato sono tornato con Popolizio e con quel figo di Frank Mattano che non è solo uno che fa ridere questo voleva dirci oggi no non è vero grazie a tutti